Partiremo da tematiche più leggere come appunto la vita di classe e dell'ambito scolastico quotidiana, quindi tutto quello che noi ragazzi abbiamo vissuto e che anche i più anziani e i più grandi si ricordano di aver vissuto e andremo poi anche a toccare cose molto più attuali e che sono trattate molto di più in questo periodo storico, diciamo come appunto bullismo, cyberbullismo, depressione, ansia psicologica, patologica, anche il tema di suicidio, stupro, quindi temi molto forti a livello sociale e molto delicati sia da trattare che da mettere in scena specialmente. Quali musical prende spunto appunto il musical di quest'anno? Allora, ci sono diverse storie che sono due musical principali, il primo è High School Musical, quindi un classicone Disney che ormai più o meno conoscono tutti, il secondo musical è The Revan Hansen che è un musical di Broadway di circa quattro anni fa, in più ci sono due serie tv che sono entrambe di Netflix, la prima è 13 e anche questa abbastanza recente di qualche anno fa e la seconda è Tiny Pretty Things, in più c'è tutta la storia dietro dell'ambito extrascolastico per quanto riguarda professori, genitori, quindi non solo ciò che riguardano i studenti ma anche tutto ciò che c'è dietro. L'impegno è stato tanto, soprattutto all'inizio non sapevamo bene come comportarci un po' come l'anno scorso per via del Covid, abbiamo iniziato la parte online per poi finalmente spostarci in presenza in palestra, ci siamo divise in due gruppi, più o meno da 20 l'uno, abbiamo iniziato a montare le coreografie, ci siamo divisi le canzoni a metà e la coreografa ha creato appunto la coreografia e poi ce la riportava a noi, ce la insegnava e questo lavoro andava da gennaio più o meno fino alla fine di luglio, abbiamo fatto le prove, abbiamo fatto un mese di pausa ad agosto e abbiamo riniziato appunto in questi giorni. Musical all'epoca del Covid si può dire perché sono due anni che siamo qua da quando è perversa questa epidemia. Non potevamo, non avevamo certezze per il Teatro Rossini, siamo venuti qua lo scorso anno, abbiamo visto le potenzialità perché questa è una corte stupenda come potete vedere e fra l'altro all'interno di una scuola, quindi come valore simbolico devo dire è evidente. Quest'estate anche grazie a quello che si chiama il piano scuola estivo siamo potuti rimanere qua, abbiamo unito questi sforzi in un unico prodotto organico e il risultato lo vedrete fra poco, ma sarà comunque vado un successo perché devo dire guardate anche le scene, le scene che voi vedete qua sono state realizzate tutte da loro, quindi è un momento che va oltre la didattica ordinaria, è un momento che rilascia a questi ragazzi delle competenze, delle conoscenze trasversali.